I carabinieri hanno fermato Gennaro Benvenuto, 23 anni, ritenuto responsabile del furto di 5 scooter portato a termine nei giorni scorsi insieme a 5 complici nei quartieri spagnoli a Napoli. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, di notte il gruppo è entrato in un garage e, in riprese, i mezzi da portare via erano troppi, ha rubato 3 scooter, prima e due successivamente. Vedete le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Ognuno dei componenti del gruppo si è allontanato a bordo di uno scooter, ripreso appunto da queste telecamere che ha poi consentito ai carabinieri l'identificazione di uno di loro. Tutti i scooter rubati sono stati ritrovati e restituiti ai proprietari dei carabinieri militari. Una buona notizia ogni tanto è un intervento rapido da parte degli uomini dell'arma.